Questo è un ptfe line top loading arm per il chemico e è un uno molto semplice, ma può essere facilmente balanzato con un cilindro molto semplice e economico. Questo cone, insieme con il piatto, è in plastica speciale e il plastica può essere, ovviamente, il compound può essere seleccato in modo che il cilindro di chimico. Se necessario, il cilindro di cilindro può essere cambiato da uno elettrico, idraulico o pneumatic e anche se il movimento, il movimento, il movimento dell'armo può essere attuato in una stessa forma. Grazie a tutti!